Passiamo alla politica. Mobilitazione per il PD contro la manovra finanziaria del governo, ritenuta sbagliata ed ingiusta, penalizza le regioni ed i comuni. Anche in Alto Adige c'è forte preoccupazione. C'è forte preoccupazione da parte del PD a livello nazionale ed altoatesino per la manovra finanziaria che il governo vuol portare all'approvazione. Una manovra ritenuta sbagliata e ingiusta e proprio per ribadire alcuni concetti l'onorevole Luisa Gniechi e il segretario del PD al altoatesino Antonio Frena hanno indetto una conferenza. Il nostro dovere, hanno sottolineato i due esponenti del Partito Democratico, è quello di segnalare questi atti di saccheggio nelle tasche degli italiani. È fatta di tagli indiscriminati e priva di riforme strutturali. Noi stiamo dicendo ormai da due anni che bisogna intervenire a sostegno dell'occupazione per promuovere l'occupazione e sostenere le imprese. Ovviamente sostenere le imprese vuole anche dire far tornare al lavoro tanti cittadini e cittadine. Questa manovra è assolutamente sbagliata perché penalizza le regioni e i comuni, permette al governo di dire che non mette le mani nelle tasche dei cittadini direttamente, ma non le mette nelle tasche dei cittadini solo perché le fa mettere e permette che le mettano e costringe comuni e regioni a metterle nelle tasche dei cittadini aumentando le tasse. Quindi è evidente che sono veramente altre le misure da adottare. Come pensare di costringere un lavoratore, una lavoratrice che abbia 40 anni di contributi o 60 anni se donne e 65 se uomo di stare un anno in più al lavoro senza che ci sia un'agevolazione per l'azienda, senza che ci sia poi un beneficio pensionistico per lui o per lei e costringendo l'azienda comunque a pagare un lavoratore anziano di più ovviamente di quello che pagherebbe un giovane è veramente agire contro l'interesse dei cittadini, del paese e dell'economia. Tra i punti contraddittori, quello riguardante la lotta all'evasione fiscale, ritenuta parziale e contraddittoria, ma la riforma finanziaria per l'Alto Adige con la sua autonomia, a quali ripercussioni potrebbe portare? Noi ovviamente a livello altotesino siamo protetti per quanto riguarda il federalismo fiscale dall'Accordo di Milano della fine del 2009. Quindi noi da questo punto di vista siamo protetti. Per quanto riguarda la scuola abbiamo fatto una riforma della primaria nel luglio del 2008 e quindi siamo protetti, infatti non abbiamo ridotto insegnanti, mentre a livello nazionale si sono ridotti 58 mila insegnanti, portando da 30 ore la settimana a 24 ore la settimana, dalla prima alla quinta elementare. Per quanto riguarda la riforma delle superiori abbiamo dovuto, e la legge sarà in aula, in settembre-ottobre quindi la provincia ha dovuto intervenire sulle linee generali, ma almeno non sulla riduzione degli insegnanti.